Avete mai immaginato di avere come amico un alieno? Se sì, questo libro fa proprio per voi. Il romanzo C'è nessuno di Lucine Garder parla di un bambino di nome Joachim di 8 anni che è rimasto a casa da solo perché la madre è andata in ospedale a partire il fratellino incontra un altro bambino di nome amica. E poi si scoprirà essere un alieno. Joachim insegna tutto ciò che c'è da sapere sul suo pianeta, amica pure, e poi nascerà un'amicizia straordinaria. La mia opinione su questo libro è che è molto stimolante e io lo consiglio perché è molto scorrevole ma contiene contenuti molto profondi.